Il 184esimo giorno dall'inizio dell'anno, siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Santo Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Santo e Sante. Il nome ha origine latina e significa Sacro. Il numero portafortuna è il 6, il colore è l'arancione e la pietra associata il diamante. Accadde oggi. Il 2 luglio del 1897, Guglielmo Marconi brevetta a Londra. La radio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 2 luglio, ricordiamo lo scrittore tedesco e premio Nobel Hermann Hesse, il giornalista Michele Santoro. La citazione del giorno. Sulla terra c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per soddisfare l'ingordigia di pochi. Gandhi. Dice il saggio. Ogni contrario ha un suo contrario. Il bel paese. Monterano è una città fantasma situata nella provincia di Roma, arroccata su un'altura tufacea, i cui fianchi dirupano per circa 100 metri. Le suggestive rovine di Monterano offrono al visitatore angoli di grande fascino e bellezza. Tra una fitta e intricata vegetazione si stagliano monumenti di rilevante valore architettonico, come il Palazzo Baronale, la Chiesa e il Convento di San Bonaventura, costruiti su progetto di Lorenzo Bernini, e una bellissima fontana a base ottagonale. Le rovine dell'antico borgo, per la loro bellezza e la relativa vicinanza a Roma, sono state utilizzate come set per numerosi film italiani e stranieri. Grazie a tutti.